Musica Volontari impegnati sabato mattina nella pulizia dei fondali, località La Scala, a Torre del Greco. Un'iniziativa promossa dalla Guardia Costiera che nasce in occasione della giornata mondiale degli oceani, dopo due anni di fermo a causa dell'emergenza pandemica. Erano presenti al porto il sindaco Giovanni Palumba e l'assessore Anna Rita Ottaviano. Il comune di Torre del Greco con altri pochi comuni ha partecipato a questa settimana per la pulizia dei fondali. Ringrazio la Cipesca, ringrazio la Capitaneria di Porto, ringrazio i volontari dell'associazione dei Subacui e loro hanno portato avanti una pulizia del fondale sulla zona della Scala. Hanno raccolto un po' di plastica, del ferro. Certo, hanno detto che rispetto a due anni fa hanno trovato meno immondizia sui fondali e questo è un dato positivo. Dopo il fermo che c'è stato a causa del Covid, stamattina stiamo qui nel porto di Torre del Greco con la Capitaneria di Porto e i Sub di Torre del Greco, i volontari, che si sono dedicati alla pulizia dei fondali. La zona pulita ha riguardato la zona della località La Scala e nonostante il fermo per due anni, dobbiamo dire, come si vede dalle immagini, sono stati recuperati poco i rifiuti e quindi questa cosa ci conforta. Il Comune è in sinergia quindi con la Capitaneria di Porto e i volontari, è sempre presente sul territorio a quale vanno i nostri ringraziamenti per l'attività di volontariato che sono sempre presenti, soprattutto in questo periodo estivo. Positivo il bilancio delle operazioni di pulizia, recuperati meno rifiuti rispetto agli anni passati. Il bilancio possiamo dire che è stato ottimo perché abbiamo fatto un intervento su una zona che avevamo già perlustrato e diciamo bonificato circa tre anni fa, prima della pandemia. In quell'occasione furono tirati in quella zona circa 270 kg di rifiuti. Oggi, dopo tre anni e mezzo, possiamo quantificare in circa 50 kg. Quindi diciamo che il risultato è veramente eccellente.